E per immortalare i vostri momenti più belli del vostro matrimonio, Angelo Mereu che parla da solo, la particolarità in persona. Cerco di fare delle foto spontanee dove rappresentiamo gli sposi in maniera molto vera, non mi piacciono le finzioni nelle foto e perciò vado alla ricerca della verità. Con delle belle foto spiritose, simpatiche e divertenti e anche molto emozionanti.